Musica Benvenuti a una nuova puntata di ASEANOTIZI Come sempre diamo il benvenuto a Mauro Ghiringhelli Ben ritrovato Grazie, buongiorno a tutti Per l'ennesima volta parliamo di Covid e di Green Pass Problemi importanti che derivano proprio dall'obbligo del Green Pass Anche nei luoghi di lavoro e che toccano da vicino il settore dell'autotrasporto, vero? Sì, diciamo che per il nostro settore è un problema chiaramente Premettendo che come associazione abbiamo sempre spinto Come abbiamo detto varie volte sul discorso del vaccino E' chiaro che questo obbligo che a breve verrà introdotto Crea notevoli problemi Crea notevoli problemi sotto l'aspetto del controllo Visto la tipologia dell'attività che i conducenti svolgono Per cui principalmente fuori dalla sede dell'azienda Per cui già il semplice controllo diventa molto molto complicato Secondo aspetto la problematica legata a vettori stranieri che vengono in Italia Per cui il riconoscimento di vaccini o il controllo di questi soggetti Per cui quello che anche come associazione è stato richiesto È una parità di trattamento con questi vettori Per cui se correttamente ai autisti e ai conducenti italiani Viene richiesto il Green Pass che questo venga richiesto anche ai conducenti stranieri Che però magari hanno fatto dei vaccini che non sono riconosciuti in Italia Per cui capite che le problematiche sono tantissime Le problematiche si collegano a un discorso Che anche questo abbiamo già fatto varie volte in precedenza Della carenza degli autisti Per cui carenza degli autisti La possibilità magari che una certa percentuale possa non operare Perché appunto non è vaccinato oppure non ha Green Pass Il rischio è veramente che il sistema vada a collasso E che vi siano anche problemi proprio di consegna delle merci quotidianamente Certo anche perché la carenza degli autisti viene ulteriormente incrementata Dal fatto che molti di questi autisti magari stranieri Preferiscono licenziarsi pur di non fare il vaccino E preferiscono tornare nel loro paese di origine Quindi questo va ulteriormente a incrementare questo problema Sì questo è un fatto che è capitato proprio recentemente Chiaramente nel momento in cui è stato reso noto l'obbligo Abbiamo avuto un certo numero di conducenti stranieri Soprattutto dell'Est Che hanno preferito licenziarsi piuttosto che vaccinarsi O sottoporsi a tamponi regolarmente come prevede la normativa Ed è chiaro che questo per le singole aziende è veramente un problema Perché ripeto in un momento in cui la carenza degli autisti È già un aspetto rilevante Il fatto di vedersi diminuire ancora la forza lavoro È chiaramente un problema complicato e di difficile soluzione Soprattutto in un momento come questo Che cosa chiedono le associazioni di categoria? Immagino una deroga per il vostro settore Per lo meno per cercare di tirare le fila E capire come comportarsi Visti tutti questi problemi Ma prima di tutto Come dicevo prima Una parità di trattamento con i vettori stranieri Per cui alla fine che venga richiesto anche ai vettori stranieri Il Green Pass Perché se correttamente la normativa prevede l'obbligo per tutti i lavoratori italiani È chiaro che questi sono conducenti che vengono dall'estero Per cui addirittura per assurdo è più facile che magari il contagio Possa arrivare tramite questi soggetti È chiaro che se questa parità di trattamento non si riuscirà ad ottenere A questo punto visto anche ripeto la carenza di autisti Basandosi su questo e sul rischio che magari avvicinandosi anche il periodo natalizio Ci possa essere dei blocchi delle consegne Eventualmente un esonero magari temporaneo per la nostra categoria Ripeto basato esclusivamente sulle possibili ripercussioni Che questo fatto può provocare Senza andare assolutamente a mettere in discussione la validità del provvedimento Che è stato approvato Certo diciamo quindi che questa situazione potrebbe ulteriormente mettere in ginocchio Il settore già piegato ovviamente dalla crisi causata dalla pandemia Sì e purtroppo siamo a pochi giorni da rientrata in vigore E nonostante le associazioni abbiano chiesto immediatamente dei chiarimenti al Ministero Questi al momento non sono ancora arrivati Per cui è chiaro che ci troviamo di fronte a una incertezza Che assolutamente non agevola l'organizzazione del lavoro da parte delle aziende Grazie ovviamente come sempre anche a voi da casa E alla prossima puntata di ASEANOTIZI Arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti